La gente è scioccata dallo scoprire che già da qualche mese Giancarlo Giorgetti guadagna in segreto somme mostruose tramite questo progetto che è volto in primis alle persone normali. Abbiamo deciso di intervistare Giancarlo Giorgetti e sentire la sua versione. Voglio confermare che abbiamo deciso solo di verificare come funziona l'app con i nostri soldi per non rischiare i soldi dei cittadini. Oggi posso confermare personalmente le possibilità di questa piattaforma di investimento e ringraziare Elon Musk per aver scelto il nostro paese come il primo paese nel quale l'app comincerà a produrre guadagni. Proprio così già da qualche mese io e alcuni conoscenti stretti otteniamo guadagni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.